Musica Buonasera ai nostri telespettatori, tempo di ultimi appelli elettorali con i candidati presidenti alla Regione Abruzzo per le elezioni di domenica prossima. Salutiamo e ringraziamo Stefano Flaiani, candidato presidente. Buonasera Flaiani, candidato per Casa Pound, sostenuto dalla lista di Casa Pound, che è presente in tre circoscrizioni su quattro, ma anche in quella di Pescara dove non c'è, si può votare Flaiani come candidato presidente. Intanto io le chiedo un bilancio, ormai siamo alla fine, su questa campagna elettorale, soprattutto anche del lavoro che ha svolto accanto a lei anche tutto il suo entourage, tutti i militanti di Casa Pound nelle piccole e grandi città d'Abruzzo in questa sfida per almeno entrare in Consiglio regionale. Sì, sì, il nostro primo obiettivo è quello, logicamente perché non siamo conosciuti in tutta la Regione, non è conosciuto il nostro programma, perché se il nostro programma fosse conosciuto io sono convinto che saremmo votati altrimenti. La prima cosa che mi ha fatto un po' pensare è stato che quando siamo andati, perché la notte qualche volta sono andato pure io a mettere i manifesti, che non paghiamo, non abbiamo i soldi, e specie in alcuni paesi del cosiddetto area interna purtroppo i manifesti sono solo i nostri. Ci siamo scontrati con dei sistemi apparati mediatici che fanno, una televisione locale gli fa un baffo, quindi immagino quando possa essere costato con troupe, con giornalisti a seguito, uffici stampa, le pubblicità sui pullman, sulle vele, i 6x3, quello che sia. Quando noi abbiamo fatto a malapena i nostri volantini, i nostri manifesti ci siamo andati ad attaccare, effettivamente poi è stato bellissimo perché al di là del rafforzamento che poi c'è tra i vari militanti di Casa Pound, abbiamo un ristretto accordi e vicinanza con altre associazioni presenti sul territorio, con cui abbiamo già dialogato, abbiamo già lavorato, abbiamo conosciuto altre associazioni che lavorano sul territorio, ci siamo dei promessi che comunque vada, vogliamo come facciamo sempre, altrimenti non facciamo pubblica sistematicamente, quindi anche senza competenze elettorali, però ecco, se abbiamo… Sono state settimane di semina in qualche modo? Di conoscenza, più che di semina, veramente di conoscenza con queste altre realtà con cui tu poi per x motivi non c'è a che fare. Hai consolidato quei rapporti che avevamo prima, abbiamo visto che determinate situazioni dove eravamo già intervenuti noi, ma come gruppo, capito, come gruppo politico, senza rappresentanti eletti, hai poco peso, parliamoci chiaro. Abbiamo rivisto l'ex micron di Avezzano che sta sempre lì, che non si sa se va avanti, abbiamo la celta di Tortoreto, io l'ho detto anche al confronto, va bene, vengono, vengono, ci vengono a trovare, ci vengono a fare visita, le cosiddette passerelle, noi lo chiamo visite, però non c'è stata spesa una parola su queste famiglie che non si sa se poi avranno ancora lavoro, non è stata spesa una parola sulle infrastrutture strategiche che aveva 24-25, ancora parlano di peraggio, riduciamo il peraggio, ma lì non è che devi ridurre il peraggio, lo devi togliere il peraggio. Si parla, si è parlato anche dell'accordo dell'arrosticino, come l'hanno chiamato, senza però andare a dire, l'arrosticino abruzzese, caratteristica, un'eccellenza che dobbiamo andare a tutelare, però io ti parlo sempre che quel 10% di eccellenza di produzione agricola è sopportata da quell'altro 90% che produce, quando noi invece abbiamo un arrosticino abruzzese, che quando va bene, quando va bene, vengono i camion con gli ovini dalla Romania, quando va male anche dall'Ucraina, zona Chernobyl e poi ci danno a mangiare a noi, allora è meglio andare a prendere i nostri greggi del nostro Gran Sassone, la Maiella e ci facciamo gli arrosticini con quello, lo devi andare a proteggere, però tutto è buono per richiamare l'Abruzzo, anche la famosa arrosticino, perché è conosciuto in tutto il mondo, però non parlano della protezione, né della produzione degli arrosticini, né della produzione degli allevatori. Quello è classico, è un'ennesima conferma dello scollamento che purtroppo abbiamo noi abruzzesi con queste classi politiche, che invece di parlare, sì è vero la scuola, non sono ricostruite, questa e questa dopo 5 anni viene dichiarata inagibile, e ma perché tu, perché io, perché il Ministro, perché quello, perché quell'altro, ma che ce ne frega a noi, scusate, però voglio dire, ma proponi qualcosa, intervieni, di guarda mi voglio piazzare sotto al Ministero o sotto al Governo nazionale fino a che non mi vengono a fare le scuole. Certo, che tipo di attenzione mediatica, proprio continuando in questo ragionamento, lei si attende dall'Abruzzo passate le elezioni, cioè da lunedì prossimo, adesso l'Abruzzo è nei riflettori nazionali, che succede da lunedì? Chiunque vinca, io auguro di vincere lei, però… Guardi, guarda, guarda, ormai ci conosciamo, io posso garantire questo, se andiamo noi sicuramente terremo alta l'attenzione mediatica perché poi Casa Pound dove va fa quelle azioni, fa quei movimenti che attira i media, fa notizia, fa notizia e quindi anche i media nazionali per avere l'audience, saranno costretti a intervenire. Se noi non entriamo succederà che sarà una regione come tutte le altre, non verrà più nessuno, si passerà direttamente alle europee oppure si passerà alle amministrative o alle altre elezioni regionali che si sono già spartiti poi all'epoca del famoso accordo, che come è uscito fuori l'accordo… Finirei adesso è preoccupato per gli elettori sardi, mi pare di capire. No, per i sardi, la Basilicata, dove si vota? In Toscana, no? Ma quest'anno ci saranno delle elezioni regionali dove i candidati presidenti si sono divisi tra di loro, ci saranno le barzellette come in Abruzzo, quello nomina quello, ci sarà forse un centro-destra, se ci sarà, che litiga o non litiga, un Movimento 5 Stelle che pretenderà di portarci un effetto Roma sulla regione, che Dio ci ne scampi, oppure un centro-sinistra che purtroppo per noi ha già dimostrato che… io la chiamo la grande capacità amministrativa, ma è ironico per carità. Purtroppo che noi speriamo di entrare anche per tenere alta l'attenzione, perché poi non si parlerà più dei terramotati, non si parlerà più delle aree industriali, non si parlerà più della rete diaria, non si parleranno più delle scogliere, non si parlerà più di niente. Questo è. Senta, ma a suo avviso come fa lei a convincere un elettore di destra, che è storicamente, culturalmente di destra, a votare per Casa Pound, quando comunque dalla coalizione di destra, in particolare dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, ci sono delle battaglie che voi dovreste condividere in qualche modo e supportate anche da uomini di governo come Salvini. Qual è la vostra difficoltà e come fate a convincere? La difficoltà è nazionale, la difficoltà è proprio dell'elettore, perché noi abbiamo, a parte che il concetto di destra e sinistra, ormai la sinistra ha demolito tutto lo Stato sociale, l'articolo 18, i lavoratori, si sono emendicati i poveri, le aree degradate, non li vedi più e questa è una realtà, quindi è andata anche loro verso un sistema finanziario. La destra, la famosa destra sociale, battaglie, non esiste più, siamo solo noi che la portiamo, siamo solo noi che in questa campagna elettorale parliamo di casa, lavoro, Stato sociale, gli altri sono andati completamente verso una destra cosiddetta liberale, quindi non esiste più neanche il concetto di destra e sinistra, esiste, chi è che ama, anzi noi dicevamo chi è che ama la propria terra e chi no, purtroppo oggi è chi ama la propria terra e chi la odia, perché in momento stesso che io parlo di A24 e A25, butto sempre là per farlo capire che sono per legge nazionale infrastrutture strategiche, quindi necessarie, urgenti, a disposizione di tutta la nazione, non solo Abruzzo, tutta la nazione, non solo è stata lasciata un privato ma ancora loro parlano di diminuire il pedaggio, di non far aumentare il pedaggio, io l'altra volta per fare un giro che sono passato dall'Aquila, Vizzano, 30 euro di autostrada con un'autolettura, ma è assurdo, è una gabbella, è un'imposizione, siamo servi della gleba in confronto a questo scandalo, quindi poi dopo vedete nei confronti, si riprendono a parole, si riprendono tra il ministro, quello che hai fatto tu, quello che non hai fatto tu, senza dire domani voglio fare questo, e questa è una differenza sostanziale, la differenza sostanziale che noi abbiamo le nostre nuove sedie aperte tutto l'anno, in Abruzzo, di parte, 150 in Italia, 151, adesso mi sono perso pure il conto, facciamo gli sportelli gratuiti, facciamo la raccolta elementare, convegni, conferenze, la biblioteca, ripetizioni ai ragazzi, dopo scuola, no? E tu non hai bisogno di dirlo, perché per noi è una vergogna, che apri il comitato elettorale, magari come quello che ho visto senza pavimento, quindi solo per mettere il manifesto, per parlare con la gente, in 20 giorni parli con la gente, in 20 giorni parli con le associazioni, oppure per 5 anni non ti si sente, non si sa cosa hai fatto e ci vieni a dire, noi abbiamo lavorato per 5 anni, fortuna, se il vostro lavoro politico è inteso in quel modo, forse è meglio cambiate lavoro. Il tema della sicurezza urbana che vi sta molto a cuore, proprio nelle ultime ore peraltro, soprattutto nella parte sud di questa regione si verificano episodi di grave violenza criminale in qualche modo. Cosa vuole fare la regione nei limiti delle proprie competenze? Guardate, noi avevamo questo progetto che poi ci è arrivata la comunicazione, è vero che la regione non ha competenza per polizie di Stato, carabinieri, ministro interno, ministro della difesa e viceversa, però ha competenza esclusiva sul discorso della polizia locale, c'è una legge regionale che non è stata mai regolamentata. Dicono che siccome noi ci abbiamo combattuto molto, abbiamo sempre reclamato questo regolamento, mi è arrivata una notizia che questo regolamento è stato fatto. Adesso in campagna elettorale non si sa da chi, come, perché, che cosa è stato scritto, lo andremo a studiare per carità, però questo vi fa capire l'importanza di Casa Pound, cioè già un argomento che noi trattiamo in campagna elettorale è servito affinché invece di andare a Bruxelles, come è successo i sindacati di polizia, di vigili urbani, di polizia locale, a chiedere ciò che rispetta il diritto dalla regione, noi siamo riusciti a farlo fare in campagna elettorale, figuriamoci una volta che ci siamo dentro, è da andare a controllarlo, da andare a vedere se veramente questi vigili urbani adesso sono uniformati, di gradi, equipaggiamenti, se hanno l'accesso alle banche dati, quelle ministeriali, se non si crea più lo scandalo di due agenti, magari se stessa sanità di servizio c'è lo stesso comune, 1 a 3 scatti di anzionalità, 1 a 0, ecco, una scuola di formazione, perché anche lì conviene tenere le barzellette di vigili urbani e andare a fare le multe, perché così i vari despota locali pretendono di usare la polizia locale non come prima forza di sicurezza sul territorio, ma come una forza autonoma per i propri piaceri, i propri gusti, quello è da andare a evitare. Leggeremo questa cosa qui, a noi fa enormemente piacere che è stata fatta in campagna elettorale, perché ci dà ancora più forza e ci dà lo stimolo per farvi capire che se già in campagna elettorale riusciamo a far ottenere questo per gli abruzzesi, se andiamo là dentro riusciamo a fare molto di più, ma molto molto di più, anche solo come proposizione, come stimolo, come richiamo, a richiamarle le loro promesse, a fare ancora raccolte film, ad andare, io facevo questo esempio, torno un attimino sugli arrosticini, se io non riesco a bloccare il camion che mi viene dall'Ucraina per legge o per regolamento, un conto è che ci vanno 20, 30, 40 ragazzi di Casa Pound a fermare il camion, a chiedere ai NAS, alla ASL di fare i controlli veterinari a quegli animali, un conto è che ci va il consigliere regionale, forse anche di opposizione, ma sempre con 50, 60, 70 ragazzi, ragazzi uomini e donne di Casa Pound, vedrete che sono obbligati a muoversi, perché tu fai pesare la tua figura elettiva, la tua figura istituzionale, allora per far che qualcosa si sposti in Abruzzo, purtroppo per gli abruzzesi siamo rimasti solo noi di Casa Pound come un'unica valida alternativa. Mi ha praticamente già risposto, però ancora un minuto e mezzo e allora io glielo faccio usare per parlare direttamente agli elettori e soprattutto confutare questo argomento del voto utile e del voto inutile per Casa Pound. Ma guarda, il voto utile serve solo a questi signori affinché oggi si prendano l'assessore quello, il ministro quello e quell'altro, non si è parlato mai della celta di Tortoreto, non si è parlato mai della ex micron di Avezzano, ma io faccio solo esempio, non si è mai parlato di cancellare dal decreto Lorenzin il punto nascita di Sulmona, non si è parlato mai dell'ospedale Italia Costa che è già stato chiuso a quello di Avezzano, non si sa in che condizioni è, i posti letto di penne e popoli, l'ospedale di Guardia Grele, per fare solo tanti esempi, il voto utile serve a loro, serve per cambiare tutto finché nulla cambi. Date un voto utile per la vostra terra, per il vostro Abruzzo, per voi stessi e vedrete che anche a livello nazionale il voto dato a Casa Pound per questa elezione abruzzese sarà come una campana, come una bomba che sveglierà tutte le coscienze politiche e saranno a fare i fatti anche a Roma. Grazie, grazie Stefano Flaiani, candidato presidente della regione Abruzzo per Casa Pound. Ultimo appello di campagna elettorale per Sara Marcozzi, presente nei nostri studi, grazie Marcozzi, candidata per il Movimento 5 Stelle, candidata presidente della regione in queste ore naturalmente e anche con Luigi Di Maio a concludere una campagna elettorale che ha vissuto come? Le chiedo le sensazioni personali e soprattutto quanto le ha lasciato il rapporto con i cittadini, con le centinaia, con le migliaia di persone che nel vostro tour itinerante avete incontrato, cercando di raggiungere tutti i comuni d'Abruzzo in queste settimane, in questi giorni. Grazie mille, intanto c'è da dire che noi siamo all'interno del Consiglio regionale da 5 anni, per cui incontriamo i cittadini abruzzesi, gli imprenditori, le associazioni di categoria, i medici, i pazienti, insomma tutti i vari portatori di interesse da 5 anni a questa parte, per cui la nostra non è stata una campagna elettorale concentrata, abbiamo certamente intensificato gli incontri negli ultimi due mesi, ma sono 5 anni che lavoriamo alla stesura di un programma di governo fatto di interventi e non di semplici enunciazioni di principio, abbiamo portato poi tanti ministri a verificare personalmente qual è la situazione in Abruzzo, ad esempio il ministro Grillo in visita all'ospedale di Chieti e gli abbiamo fatto vedere sia un'eccellenza che poi la situazione drammatica del pronto soccorso, all'ospedale di Guardia Grele per vedere i disagi che vivono i cittadini abruzzesi dall'approvazione del piano di riordino del passato governo che di fatto è stato un piano di disordino, la viviamo bene, i cittadini abruzzesi sono certi che si siano convinti anche sulla base delle cose che ci hanno detto in questi mesi, in queste settimane, che l'unico governo alternativo possibile è quello del Movimento 5 Stelle, perché da un lato c'è lo schieramento di centrosinistra che ricandida tutta la Giunta e tutta la maggioranza d'Alfonso, dunque non è affatto in discontinuità e dall'altro abbiamo visto ieri il candidato di Berlusconi, che non è più neanche il candidato di Salvini, del centrodestra per il quale peraltro Berlusconi ha lanciato un messaggio diretto agli abruzzesi che suona quasi come una minaccia e cioè che se dovesse vincere il candidato di centrodestra Berlusconi sarà ogni mese in Abruzzo, per cui siamo abbastanza preoccupati di questa eventualità e la Lega ieri ha gettato definitivamente la maschera in una conferenza stampa assieme a Berlusconi, assieme a Lameloni, assieme a Quagliariello, quindi è proprio l'anzien regime che si candida sia da parte del centrodestra sia da parte del centrosinistra. Per quel che riguarda invece il vostro programma concreto per cambiare la regione Abruzzo, quali feedback sono arrivati dai cittadini anche rispetto a quello che avevate elaborato in un primo momento e già depositato da mesi come programma elettorale. Molto positivi. Come si è arricchito questo programma? Come dicevo è un programma di governo che abbiamo realizzato insieme a tutti i vari portatori di interesse, per il lavoro ci sarà un grande piano Marshall basato su aiuti alle imprese come l'accesso al credito, la facilitazione di accesso al credito, il credito d'imposta, incentivi per le assunzioni, la formazione che è importante e fondamentale in questa regione viene lasciata un po' al caso, noi invece guardiamo a quali sono i lavori del futuro sulla base anche di un lavoro che il Movimento 5 Stelle ha fatto nella passata legislatura in Parlamento, uno studio che si chiama Lavoro 2025 che ci ha spiegato quali saranno i lavori del futuro nel 2025 e dunque dove dobbiamo orientare la formazione. Quindi aiuti alle imprese, aiuti alle imprese delle donne, lo voglio specificare perché sono troppo spesso sottovalutate e non viene sottolineata l'importanza del ruolo delle donne in questa regione, poi un grande programma per la sanità, abbiamo l'obiettivo, intanto l'ho già dichiarato, che quando il governo del Movimento 5 Stelle si inserirà la prima cosa che farò sarà quella di verificare gli obiettivi raggiunti o meno dai direttori generali delle ASL ed eventualmente rimuoverli perché la sanità è un po' allo sbando in questa regione, lo abbiamo visto, le liste d'attesa sono lunghissime, noi puntiamo a abbattere le liste d'attesa con una serie di interventi di tagli agli sprechi e non di tagli ai servizi e poi un grande obiettivo che ho è di re-internalizzare tutti quei servizi che oggi sono ceduti alla gestione di società cooperative come le mense, le cucine, le pulizie perché abbiamo visto che la qualità dei servizi dopo questa cessione alla gestione delle cooperative è diminuita, sono diminuite anche la qualità delle condizioni di lavoro dei lavoratori che troppo spesso vengono sfruttati con orari e buste paga da fame, dunque grandi obiettivi per il lavoro, per la sanità, grandi obiettivi anche per le infrastrutture. Assieme al ministro Toninelli abbiamo già valutato l'ipotesi di quali sono le priorità del paese in realtà e non soltanto di regione Abruzzo e cioè invece di fare una TAV Torino-Lione che è una duplicazione che non serve a nessuno, che in uno studio di fattibilità ha già detto che non serve, cosa sponsorizzata tra l'altro dal centro-destra e dalla Lega, noi puntiamo all'alta velocità Pescara-Roma-L'Aquila-Roma che è un'infrastruttura che serve assolutamente alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica che anch'essa è tagliata fuori e un piano per le infrastrutture anche di manutenzione delle strade, non ci dimentichiamo che le aree interne sono state dimenticate in questi anni per cui una grande attenzione sarà per le aree interne sia per quanto riguarda la manutenzione delle strade sia per quanto riguarda incentivi allo sviluppo economico delle aree interne come delle zone a fiscalità di vantaggio. Proprio sulle infrastrutture il candidato del centro-destra Marsiglio ha detto di non fidarsi delle promesse di Toninelli di questi giorni in quanto Toninelli non ha fatto nulla finora per queste infrastrutture. Ci dobbiamo fidare di chi ci ha governato fino ad oggi centro-destra e centro-sinistra e che davvero abbiamo la prova che non abbiamo fatto nulla. Il ministro Toninelli da quando si è insediato pensiamo all'autostrada 24 a 25 ha bloccato il rincaro dei pedaggi, stanziato 192 milioni di Euro per i lavori di messa in sicurezza e sta mettendo mano al piano economico e finanziario che attende di essere rinnovato dal 2013. Dunque sta mettendo riparo a tutti i danni che hanno fatto i governi di centro-destra e centro-sinistra. Centro-destra firmando delle concessioni con il gestore dell'autostrada completamente sbilanciato in favore del gestore e dunque rinnoviamo il PEF e il governo di centro-sinistra che in 5 anni di governo non è riuscito a rinnovare questo PEF e ad abbassare le tariffe. Noi stiamo facendo i fatti in realtà, gli altri continuano nonostante abbiano governato per 20 anni questo paese e questa regione a promettere. A proposito di Abruzzo, in queste ore abbiamo visto anche molto sui social, si parla molto dell'abruzzesità dei vari candidati. Abbiamo visto anche ieri Salvini esibirsi anche con un'altra maglia, con un motto molto identitario della città di Pescara. Qual è il suo giudizio su questo tema che è entrato in campagna elettorale, soprattutto anche grazie a situazioni di immagine che poi hanno colpito molto l'opinione pubblica? Quello del centro-destra è stato definito da un suo collega il patto degli arrosticini, perché c'è questo candidato di centro-destra molto impegnato a sembrare quello che non è, cioè si affanna a dimostrare di essere abruzzese e di conoscere l'Abruzzo, ma non basta farsi una foto e postare una foto su Facebook mentre si girano gli arrosticini per dimostrare di conoscere i problemi. Salvini ovunque va indossa una maglia, va Giulianova indossa la maglia del Giulianova Calcio, va Pescara indossa la maglia Nuse-Manu, insomma è un po' una forma di propaganda che secondo me non premierà. Invece tornando alle questioni concrete, per quanto riguarda il tema del lavoro e del welfare, quanto saranno efficaci a suo avviso anche in relazione all'incidenza che avrà sulla popolazione abruzzese le recenti misure su quota 100 e sul reddito di cittadinanza? Fondamentali, in Abruzzo per quota 100 già 1.000 persone hanno fatto domanda di pensionamento e c'è un bacino potenziale di 7.200 persone. Il reddito di cittadinanza inciderà su 28.000 nuclei familiari, quindi diciamo si estende a 70-80.000 persone all'incirca e questa è una manovra fondamentale perché grazie al reddito di cittadinanza sulla nuova programmazione dei fondi europei 21-27 che il governo del Movimento 5 Stelle sarà impegnato a redigere non appena insediati, si libereranno molte risorse, tutti quei milioni di Euro che sono destinati all'inclusione sociale, alla lotta alla povertà, che potranno essere indirizzati invece verso altro, verso il lavoro, verso la formazione, quindi inciderà molto positivamente. Poi mi lasci dire che oggi in Abruzzo tante persone vedranno o le pensioni minime aumentate a 780 Euro o tutte quelle persone che avevano un reddito pari a zero avranno 780 Euro da spendere in generi di consumo primari, per cui anche l'economia reale della nostra regione ne trarrà un vantaggio con tutta questa iniezione di liquidità verso i piccoli esercenti, i piccoli esercizi commerciali, i negozi, l'economia della nostra regione. L'appunto principale che a livello politico viene mosso al Movimento 5 Stelle in particolare, ma anche al governo nella sua composizione, è quello di non favorire misure espansive dell'economia. Lei da governatrice della regione, quale manovra espansiva per l'Abruzzo, per le sue imprese, per la crescita della produttività in questa regione metterebbe in primo piano? Allora, questa è una critica a mio avviso errata e lo dicono anche gli economisti, perché con l'istituzione del reddito di cittadinanza ci saranno tante persone che si iscriveranno ai centri per l'impiego, dunque paradossalmente inizialmente il numero di disoccupati salirà, questo fatto comporta l'aumento del cosiddetto PIL potenziale e dunque nella prossima legge di bilancio potremo trattare con l'Europa per circa 12 miliardi di Euro in più di deficit da investire su investimenti, su imprese, su progetti concreti, per cui è una manovra molto espansiva. In regione Abruzzo puntiamo a sviluppare il turismo, questa parola, questo grande sconosciuto che viene sempre ripetuto da tutti, però in realtà nessuno ha mai fatto quello che è stato fatto in altre regioni, in quelle dove il turismo funziona, cioè un'agenzia unica che si occupi della valorizzazione, della promozione e della commercializzazione del marchio Abruzzo, delle nostre bellezze, del mare e dell'intera regione. Oggi la promozione delle nostre bellezze è lasciata alle DMC, cioè piccole realtà territoriali che evidentemente non riescono a farsi carico della promozione del territorio né all'interno del nostro Paese né tantomeno all'estero. Noi puntiamo ad investire milioni di Euro e tutta una serie di risorse proprio per la valorizzazione e per sviluppare il cosiddetto Piano B, cioè dal momento in cui tanti lavori cambieranno, tanti lavori saranno sostituiti, quelli manuali saranno sostituiti dalle macchine, noi dobbiamo, e tante imprese delocalizzano, sappiamo, ogni giorno un'impresa si sveglia, un'azienda si sveglia e delocalizza in un altro Paese d'Europa perché costa meno il lavoro, perché si pagano meno tasse, noi puntiamo a sviluppare tutta quell'economia che non è delocalizzabile e questo è il turismo. Gli ultimi due minuti le lascio per parlare direttamente agli abruzzesi a chiudere questa campagna elettorale. Grazie agli abruzzesi voglio dire di scegliere il governo del Movimento 5 Stelle perché abbiamo redatto un programma di interventi concreti e lo possono leggere, insomma online lo trovano. Voglio dire di non credere alle solite promesse dei grandi schieramenti di centrodestra e di centrosinistra che si candidano con centinaia di candidati soltanto per rastrellare i voti e poi se dovessero vincere ad essere eletti saranno sempre gli stessi e cioè quelli che hanno già governato a regione Abruzzo, sia di centrodestra che di centrosinistra e ci hanno lasciato questa penosa eredità. Chiedo ai cittadini abruzzesi di darci fiducia e di basare il loro voto su quello che è già stato fatto, guardate quello che ha già fatto il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, quello che abbiamo fatto noi a livello regionale mantenendo le promesse che potevamo mantenere stando all'opposizione come tagliarci gli stipendi fino a 780 mila euro, abbiamo donato 4 ambulanze alle Asle, abbiamo acquistato una turbina a spalaneve, abbiamo creato un fondo per il microcredito che ad oggi ha finanziato 108 imprese, insomma abbiamo fatto dei piccoli atti di governo pur stando all'opposizione e oggi ci candidiamo a governare a regione Abruzzo con i cittadini abruzzesi e per i cittadini abruzzesi. Grazie a Sara Marcozzi, candidata Presidente alla regione Abruzzo, linea alla regia. Ultime ore di campagna elettorale che si sta per chiudere alla mezzanotte, negli studi di Rete 8 per l'ultimo appello agli elettori abruzzesi, il candidato Presidente Marco Marsiglio, buonasera Presidente. Buonasera a voi. Allora, si sta per completare questa lunga campagna elettorale, lunga fino a un certo punto perché poi ci sono stati tantissimi eventi per voi, siete ovviamente anche tutti provati e stanchi perché sono state giornate molto molto intense, però è stata una campagna elettorale che ha acceso sull'Abruzzo riflettori non soltanto locali. Ecco, innanzitutto le chiedo proprio questo per cominciare. Qual è il giudizio su questa atipica, anche come collocazione stagionale, campagna elettorale abruzzese? Era quella che lei si attendeva? Sono stati inquadrati i temi reali su cui gli elettori saranno chiamati a decidere domenica? Era la campagna che volevamo quando abbiamo iniziato questa campagna elettorale, la nostra proposta politica e il profilo della nostra candidatura serviva proprio a porre di nuovo questo tema, che l'Abruzzo deve tornare al centro delle attenzioni nazionali dopo essere stato per troppo tempo dimenticato. Tranne la lodevole eccezione, non a caso, quando governava al centrodestra, sia in regione che in Parlamento, con il terremoto dell'Aquila, la presenza dello Stato fu molto fattiva e il governo Berlusconi, il governo di centrodestra, realizzò in poco tempo quello di cui c'era bisogno. Poi purtroppo, sia prima che dopo, si è tutto bloccato e l'Abruzzo è tornato ad essere una regione dimenticata, una regione marginalizzata che paga questa emarginazione con il ritardo infrastrutturale, il ritardo nella crescita economica, il blocco dello sviluppo, la disoccupazione crescente. Aver portato qui i leader nazionali, i ministri, i sottosegretari, aver fatto accendere i riflettori di tutta l'Italia e non solo, sull'Abruzzo e sulla vertenza Abruzzo è stato per noi un grande successo e tutti gli impegni che i leader nazionali e i membri del governo sono venuti qui ad assumersi con i cittadini abruzzesi, li faremo mantenere e sarà nostro preciso dovere dalla prossima settimana andare a rendere conto di questa tensione e mantenere alta questa tensione nei confronti della nostra regione. Un'attenzione su cui però lei ha fatto dei distingui, ad esempio sul tema delle infrastrutture, molte dichiarazioni del ministro Toninelli circa in particolare la situazione dei pedaggi autostradali non le sono piaciute perché su questo tema la posizione di quella parte del governo non l'ha trovata convincente. Ma non è che non piacciono a me, non piacciono agli abruzzesi perché quando si governa non si può fare propaganda, bisogna fare gli atti. Allora sui pedaggi io in Parlamento ho presentato gli emendamenti per bloccare per almeno due anni il rincaro dei pedaggi in attesa che il ministero competente, cioè Toninelli, sbloccasse il piano economico finanziario e prendesse una decisione che non ha preso perché dopo 5 anni di governo PD con il ministro del Rio e il governatore D'Alfonso in cui la questione autostrada è rimasta a marcire nei cassetti dei ministeri e non si è presa nessuna decisione, sono passati altri 7 mesi in cui Toninelli fa propaganda e non dice quale sarà il futuro e il destino di questa autostrada. Ma ci sono altre infrastrutture su cui abbiamo stanato il ministero e lo abbiamo portato a fare passi in avanti perché quando è iniziata la campagna elettorale e io ho posto il tema dell'alta velocità Roma-Pescara e dell'alta velocità sulla torsale adriatica, lamentando e denunciando il fatto che Ferrovie dello Stato nei suoi progetti prevede l'alta velocità da Napoli a Bari e quindi per andare da Venezia a Bari non si passa per Ancona e Pescara ma si passa per Bologna, Firenze, Roma e Napoli e quindi tagliando fuori l'Abruzzo dallo sviluppo e dalle direttrici dell'alta velocità. I 5 Stelle che al solo sentir parlare di alta velocità normalmente gli vengono le bolle in faccia tant'è che la vogliono bloccare dovunque essa sia, ora sono venuti in Abruzzo a dire che faranno l'alta velocità Roma-Pescara, io sono felice di questa inversione di tendenza e del fatto di aver convinto anche i 5 Stelle solitamente contrari allo sviluppo e alle grandi opere che questa grande opere è necessaria per il futuro dell'Abruzzo e come per altre occasioni sarò dalla prossima settimana al tavolo con il Ministro per che questo impegno venga mantenuto e perché anche l'Abruzzo esca dal medioevo ferroviario in cui precipitata una regione dove ci vogliono 4 ore di media per andare da Roma a Pescara alla velocità oraria di circa 40 km, invece nella modernità delle infrastrutture del XXI secolo. Tra le emergenze che riguardano in particolare la parte interna dell'Abruzzo, ma non soltanto, c'è quella di avviare finalmente la ricostruzione del cratere del 2016 che è rimasta sostanzialmente al pallo. Da questo punto di vista che stimolo può dare la regione su dinamiche nazionali che sembrano ancora un po' confuse a dir poco? Intanto uno stimolo determinante per quelle che sono le sue competenze, c'è l'ufficio della ricostruzione che compete dalle scelte della regione dove è stato nominato evidentemente un soggetto incompetente e non in possesso delle dovute doti manageriali. È chiaro che è un classico esempio in cui le nomine vengono fatte per logiche di partito e di appartenenza, se non addirittura clientelari, e invece che per logiche di merito e di competenze. Il risultato è che per il terremoto 2016-17 ad oggi sono state esaminate solo una trentina di istruttorie, di pratiche ed è tutto fermo. In una regione dove si potrebbe dare lavoro per sette generazioni nel settore dell'edilizia attraverso la ricostruzione abbiamo imprese che falliscono anche perché non vengono pagate per quei pochi lavori che sono partite e migliaia di persone che stanno ancora fuori casa, a cui paghiamo la sistemazione autonoma e che si stanno sradicando dalle loro città e dai loro paesi, pregiudicando la futura ripresa anche sociale, economica e culturale di quel territorio, perché non basta ricostruire fisicamente le case se poi restano vuote. E bisogna sbrigarsi, la regione può nominare e deve nominare, e io lo farò tra i primissimi atti del mio governo, ci sarà questo, nominerò una persona competente, darò uno stimolo forte e poi staremo addosso anche al governo perché bisogna disboscare le norme, abbiamo già presentato tante norme, lo fanno i sindaci, lo ha fatto la regione precedentemente nel tavolo della ricostruzione che ha costituito e dove ci sono tutti i soggetti interessati. Ormai qui c'è un patrimonio di conoscenza, diciamo che l'Abruzzo per le tragedie da cui è stato colpito e che ha dovuto affrontare potrebbe insegnare al mondo un master in ricostruzione, quindi il governo deve avere finalmente l'umiltà di ascoltare quello che l'Abruzzo gli dice, quello che i sindaci gli dicono, quello che i tecnici che hanno affrontato e stanno affrontando la ricostruzione gli dicono e adottare le norme che gli presenteremo alla prima occasione utile, saremo a Roma a presentare un pacchetto di norme per disboscare, semplificare, snellire, ridare i poteri ai territori dove possono gestirli i sindaci e i comuni e permettere così l'avvio vero della riqualificazione, della ristrutturazione, della ricostruzione. Il tema della ricostruzione è emblematico anche di una dinamica sociale che riguarda questa regione, una regione polarizzata su realtà metropolitane, su grossi poli industriali come quello della Val di Sangro, ma anche con una situazione di marginalità per le aree interne. Come ricucire questa ferita? Bisogna ricucirla facendo crescere tutto intero l'Abruzzo, perché io ricordo che quando l'area industriale della Val di Sangro venne pensata, realizzata e fatta crescere rigogliosa, ha salvato decine di piccoli comuni dell'entroterra sangritano, vastese, frentano, dallo spopolamento, perché aver trovato lavoro, aver collegato attraverso le navette, i pullman, la ferrovia, quella zona industriale ai piccoli centri ha permesso a tanta gente di poterci rimanere. Bisogna lavorare sulla distribuzione dei servizi equilibrata, superando le logiche dei grandi numeri, che sono quelle che stanno tanto in voga nei ministeri, che non considerano la bassa densità demografica delle zone montane, sulle quali dobbiamo invece fare degli investimenti, perché quando la gente se ne va da quei posti il danno è per tutti, perché le città si ingolfano, crescono disordinatamente periferie urbane dove il degrado sociale e culturale dilaga, perché il territorio viene abbandonato e il dissesto idrogeologico aumenta con l'assenza dell'uomo, con la presenza dell'uomo che cura i boschi, cura i campi, cura le attività, pulisce i corsi d'acqua, pulisce le strade, allora lì il territorio viene salvaguardato, però su questo dobbiamo anche aprire un'avvertenza nazionale, perché vivere in montagna non può diventare un dazio, una penalità che ha da scontare tutta la vita, chi vive in montagna vive già più scomodo, ha maggiori costi perché paga il riscaldamento 10 mesi l'anno e noi dobbiamo creare una fiscalità di vantaggio e degli incentivi seri per chi sceglie di restare in luoghi impervi, in luoghi difficili in cui vivere, ma che rende un servizio all'intera comunità. Anche sul tema della sanità abbiamo visto i ministri, in particolare il ministro Grillo e 5 Stelle venire a parlare qui di salvaguardia dei piccoli ospedali, perché la sua ipotesi di riorganizzazione della rete ospedaliera è più credibile rispetto a quella che viene annunciata dal governo? Intanto perché il ministro Grillo non deve fare annunci, deve fare decreti, venire qui in Abruzzo a dire che il decreto Lorenzin è brutto, sporco e cattivo e quindi qualcuno che chiude i punti nascita degli ospedali come Sulmona, Urtona o altri reparti in base a quel decreto sarebbe brutto, sporco e cattivo e loro sono gli unici bravi? È una narrazione da Verginelli che non regge alla prova dei fatti. Il ministro Grillo faccia quello che le stiamo dicendo da tempo, faccia il controdecreto Lorenzin e scriva in questo decreto che nelle aree disagiate, nelle aree di montagna, nelle aree a bassa densità demografica non bisogna raggiungere gli stessi numeri che si devono raggiungere a Pescara, a Chieti o a Roma e Milano. Faccio solo un esempio, il tavolo tecnico del Ministero della Salute, governato dal ministro Grillo dei 5 Stelle che sostiene Sara Marcozzi, ha respinto la richiesta della regione Abruzzo di tenere aperto il punto nascita di Sulmona, però il ministro non può venire a Sulmona a dire che vuole tenerlo aperto, il ministro Grillo ha il potere di fare un decreto che metta nelle condizioni la regione Abruzzo di tenerlo aperto e il tavolo tecnico del Ministero di accettare la richiesta della regione, quindi passare dalla propaganda ai fatti, 5 Stelle non hanno capacità e cultura di governo, lo dimostrano in questa campagna elettorale, vale anche per i tribunali, vedere il ministro Bonafede che corre a Sulmona per dire che stanno riflettendo e ripensando sul destino dei tribunali minori abruzzesi, sono Sulmona, Lanciano, Vasto, Avezzano che hanno già decretato la loro chiusura e il ministro Bonafede fino a due mesi fa ha ribadito in Parlamento e nelle pubbliche assemblee che li avrebbe chiusi e sostituiti con uffici di prossimità, luoghi dove si danno solo certificati ma non si amministra la giustizia e non si dà ai cittadini il diritto di poter accedere a questo servizio fondamentale. Allora anche qui il ministro della giustizia onori gli impegni elettorali e i patti sottoscritti nel contratto di governo, perché quello c'è scritto e non venga a dire in Parlamento che chiude tribunali e poi in campagna elettorale per far raccogliere qualche voto o per non far perdere voti a Sara Marcozzi viene a dire neanche il contrario, viene a dire ci penseremo, li fretteremo. Come facevano i vecchi politicanti da cui loro dicono di essere tanto diversi e tanto nuovi? Mancano appunto pochi minuti alla chiusura della campagna elettorale, lascio a disposizione uno spazio per parlare direttamente agli abruzzesi alla vigilia di un weekend che adesso non sappiamo ancora climaticamente cosa riserverà, ma che comunque necessita di un qualche incentivo ulteriore magari per battere l'astenzionismo che è il vero grande avversario di tutti voi che state facendo campagna elettorale in questa tornata? Diciamo che l'unico vantaggio di questa campagna elettorale invernale, me l'ha detto il sindaco di Calascio facendoci vedere la condizione di durezza in cui si vive in montagna durante l'inverno e quindi tutte le personalità, tutti i candidati che hanno percorso l'Abruzzo in questo tempo hanno potuto misurare la durezza delle condizioni in cui viviamo e quindi anche le grandi necessità che abbiamo e questo è stato positivo, io ho girato ogni angolo o almeno ho provato a girare ogni angolo in 30 giorni di questa terra bellissima e l'amarezza di vederla ridotta in queste condizioni, di vedere così distante la ricchezza potenziale che ha questa terra rispetto a quella poca che produce è molto forte, l'amministrazione uscente del Partito Democratico ha lasciato macerie, non c'è una sola categoria e un solo settore della vita pubblica nel quale qualcuno possa dire di aver fatto un progresso, anzi troppi se ne contano in cui l'Abruzzo è tornato indietro e i 5 Stelle non hanno dimostrato almeno finora né cultura di governo né visione, il centrodestra è l'unico che invece ha una visione concreta, una visione reale ed esperienze pratiche di buon governo da mettere a disposizione anche dell'Abruzzo, noi abbiamo questa visione di tornare a fare essere l'Abruzzo la terra ideale dove vivere e lavorare, abbiamo questa possibilità, il 10 febbraio tocca anche a voi con il vostro voto mettere in condizione la nostra regione di tornare a crescere, di tornare a volare, di tornare ad essere una regione grande e forte come lo è stato in passato. Grazie Marco Marsiglio. Ultimo appello elettorale anche per Giovanni Legnini, candidato di una coalizione di otto liste, ultimi minuti davvero di questa campagna elettorale Legnini, una campagna condizionata da due venti in qualche modo, c'è un vento bulimico diciamo nazionale in qualche modo che respira su questa regione fatto di ministri e c'è un vento che è quello che è un po' sospinto la sua candidatura, il suo programma, il suo progetto, che è quello che è nato dall'appello dei sindaci e si è in qualche modo consolidato nel corso di queste settimane, ma a suo avviso sarà sufficiente a spazzare l'altro vento, quello contrario alla sua candidatura? Questo lo decideranno i cittadini abruzzesi, io sono assolutamente fiducioso perché ho registrato crescente partecipazione, attenzione, comprensione del nostro progetto, delle nostre idee, dei nostri obiettivi, ne ho avuto moltissime riprove anche da parte di elettori che nel recente passato avevano dato il loro consenso al centro-destra o al Movimento 5 Stelle, il messaggio forte che noi abbiamo voluto lanciare alla società abruzzese per assicurare una guida all'anno l'altezza dei problemi, dell'esigenza, dell'emergenza, delle opportunità della nostra regione a mio modo di vedere è stato recepito, d'altra parte invece vi è stata questa passerella, questa estrema politicizzazione, questa tentativa di voler cambiare campo di gioco, schema di gioco utilizzando e strumentalizzando gli incarichi dei ministri, facendo propaganda, non assumendo nessun impegno, uno spettacolo senza precedenti nella nostra regione e non solo nella nostra regione. Ecco ma anche dai contenuti, dei messaggi che sono arrivati dai ministri in questi giorni in Abruzzo, lei che cosa ha colto rispetto a temi come le infrastrutture, come la sanità, ecco che cosa c'è di realizzabile in quello che è stato detto in queste settimane? Sfido a trovare un cittadino abruzzese che ha capito che cosa farà un eventuale e sempre più improbabile governo guidato dal senatore romano Marsiglio o dalla consigliere Marcozzi nel caso dovessero, ripeto, lo dico per mera teoria prevalere, perché il governo non ha assunto nessun impegno, non poteva farlo perché tra l'altro vive una condizione di conflitto, di crisi, non conoscono i problemi della nostra regione, noi invece abbiamo indicato soluzioni credibili, affidabili, io farò valere la forza della legittimazione che proverrà dal voto popolare e farò valere ovviamente anche la mia conoscenza molto approfondita delle dinamiche, dei processi decisionali negli organi di rilievo nazionale ed europeo, eserciterò una rappresentanza forte, capace di interpretare l'esigenza di autonomia, capace di rappresentare il carico dei problemi, alcuni più antichi e altri più recenti e delle soluzioni che abbiamo prospettato e che prospetteremo favorendo anche una grande partecipazione del popolare, delle categorie, dei consiglieri che saranno eletti, della giunta che sarà nominata. Lei parlando invece del vento che la sostiene, ha il conforto e anche la forza di una coalizione con decine di candidati, si è realizzato un esperimento che ha un interesse, lo leggiamo sui media nazionali di queste ore, anche al di fuori dei confini dell'Abruzzo, lei come pensa, quale che sia il risultato di domenica, ma soprattutto in caso di successo, di capitalizzare questo valore aggiunto di un polo civico? Naturalmente il risultato ci dirà se questo progetto politico che abbiamo promosso è valido, capace di risuscitare attenzione, voglia di partecipazione da parte dei cittadini, da parte della società civile, il progetto appunto si poneva questo obiettivo ambizioso in questo momento storico di riaprire quei canali otturati tra la società, l'economia, gli enti locali e il livello di rappresentanza superiore, in questo caso la regione e attraverso le 230 rende candidature, moltissimi giovani, donne, professionisti, espressione del mondo del lavoro, della scuola, dell'università, ci siamo riusciti, a ciò è seguita una straordinaria mobilitazione popolare e adesso infine la parola aspetta agli elettori, poi valuteremo se questo progetto è valido, è forte per l'Abruzzo e io sono persuaso che così è e naturalmente saremo sotto i riflettori nazionali, tutto lascia presupporre che tra domenica sera, lunedì, martedì i risultati elettorali abruzzesi saranno una cartina al tornasole per dinamiche politiche più complesse anche di carattere nazionale, naturalmente il nostro obiettivo è quello di dare un governo all'Abruzzo, un governo forte ed autorevole, se poi dai risultati che ci auguriamo positivi, di successo del nostro tentativo si potranno trarre argomenti che vanno oltre, io ne sarò molto contento, mi auguro fortemente che ciò accada, in un momento nel quale il governo gialloverde è in enorme difficoltà, conflitti permanenti, l'Italia è stata ricacciata in zona di recessione, c'è stato questo fatto enorme di ieri del ritiro dell'ambasciatore francese in Italia, un fatto che dimostra un isolamento del nostro paese, vi è un balbettio del governo sulla gravissima crisi del Venezuela e a proposito colgo questa opportunità per salutare, abbracciare gli italo-venezuelani, tutti e quelli che sono tornati in Abruzzo e con i quali che ho incontrato, alcuni di loro li ho incontrati e con i quali da Presidente della Regione mi confronterò per sostenerli, per far sì che le loro ragioni vengano fatte valere qui e in Venezuela. Lenini, non c'è una famiglia abruzzese in cui non ci sia almeno uno di questi casi, di queste tipologie, se non addirittura più di uno, un anziano magari non autosufficiente che soffre, un genitore che ha perso il posto di lavoro, un figlio che vede il suo destino, magari anche dopo studi superiori, lontano da questa Regione, che tipo di risposte dà il suo programma a queste difficoltà, a questo Abruzzo che soffre? Io ho visitato molti luoghi della sofferenza, fino a ieri, fino a oggi e sono consapevole della necessità di rafforzare fortemente la nostra rete assistenziale, di prendersi cura delle persone in difficoltà, ho visitato un centro per l'autismo, ne sono stati aperti tre in questi anni nella nostra Regione che consentono di seguire, curare, assistere questi ragazzi e ragazze straordinari, ho frequentato i luoghi dell'accoglienza, della solidarietà, nei confronti degli esclusi, un grandissimo impegno per chi è rimasto indietro, per chi è escluso, per chi è povero, per chi è malato, per chi è anziano e da solo non ce la fa. E poi il lavoro, il lavoro, il lavoro, i giovani, noi abbiamo immaginato queste misure molto incisive, fattibili, con risorse che possono essere prelegate ad altre finalità, per incentivare le imprese ad assumere i giovani che vogliono tornare dall'estero, per dare un contributo ai giovani che vogliono per un breve periodo fare un'esperienza all'estero e poi alle imprese che vogliono farle tornare, le abbiamo chiamato Torna in Abruzzo, Formo e Torno in Abruzzo e altri incentivi per il lavoro stabile, di qualità, per la crescita delle imprese, per il sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese. Le prossime saranno ore di riflessione, che tipo di riflessione a suo avviso dovrebbe fare un cattolico che vive in Abruzzo? Lei ha molti candidati? Noi abbiamo promosso una lista di cattolici, del volontariato e dell'associazionismo cattolico di cui vado particolarmente fiero, perché attraverso quella lista, ma attraverso tutto il programma e la coalizione, noi abbiamo voluto testimoniare quei valori di inclusione, di solidarietà, di sostegno alle famiglie, di onestà e di trasparenza, di cura del bene comune, che non mi sembra siano intracciabili nei messaggi che si contrappongono al nostro, che sono fatti di rancore, di odio, di esclusione, di egoismi. Per me l'impegno dei cattolici in politica insieme alle altre culture, a quella progressista di sinistra, a quella liberale, costituisce il tratto fondativo di questa coalizione che abbiamo voluto animare. Sono ore anche nelle quali c'è ancora indecisione sul se e sul chi andare a votare, che messaggio si aspetta anche dal punto di vista della partecipazione alle urne domeniche? Si sa che quando si vota in inverno, si vota solo nella nostra regione, non vi è quell'attenzione mediatica nazionale, solo negli ultimissimi giorni si è un po' animata e quindi non tutti i cittadini sono informati, il rischio di astenzione è un rischio elevato insieme alle delusioni, alle delusioni per il passato e alle delusioni per l'esperienza di governo presente. Io invito fortemente i cittadini abruzzesi ad andare a votare, a votare l'unica proposta che esprime forze, autonomia, progetti per questa nostra terra, quindi a votare per me e per i candidati delle mie otto liste che sono espressione diretta della società civile abruzzese. L'ultimo messaggio invece, proprio in questi ultimi minuti di campagna elettorale, vorrei che lo rivolgesse anche a tutti i candidati che stanno lavorando in queste ore per capire qual è la spinta che si può dare per il risultato. Un grandissimo ringraziamento, un abbraccio a tutte le candidate, a tutti i miei candidati, ai molti giovani, alle molte donne che hanno vissuto questa esperienza con grande entusiasmo facendo un lavoro capillare. Insieme a loro moltissimi volontari, moltissime persone che hanno voluto testimoniare impegno, che si stanno impegnando in queste ore. Fatelo, fatelo in queste ultime ore, fino a domenica, per far sì che molte persone andranno a votare, per far vincere questo progetto di rinascita, di riscatto della nostra regione. Grazie, grazie Giovanni Neglini, grazie ai nostri telespettatori, arrivederci.